Compagnia di coach Giubertoni a commentare, so che sarà anche difficile commentare, una partita persa in casa contro l'Eco, squadra sicuramente di rango, di soli tre punti dopo una partita secondo me condotta comunque in maniera molto combattiva. Sì, va bene, rimane la mare in bocca quando si perdono queste partite qua, è chiaro per tre punti in casa nostra con un paio di decisioni discutibili, sai che io non parlo mai degli arbitri, ma infatti tu non stai parlando di arbitri, stai parlando di decisioni discutibili. Esatto, allora io ho presentato la partita da giovedì alla squadra, sostenendo che secondo me l'Eco è forse la squadra che interpreta meglio le trenta partite di campionato, nel senso che non hanno mai cari di tensione, sono bravissimi ad affrontare ogni partita, loro sono sempre sul pezzo e anche stasera sono stati sul pezzo, stasera lo siamo stati anche noi, abbiamo secondo me difeso forte, loro hanno tirato con percentuali altissime anche da tre punti, nonostante siamo arrivati tante volte a mettergli le mani in faccia, abbiamo preso nei primi due quarti otto punti al ventiquattresimo secondo, due tiri da tre, un tiro con il piede sulla linea, tiri che tutto sommato si possono accettare perché quando difendi per ventiquattro secondi poi vai a mettergli la mano in faccia e contestare anche l'ultimo tiro, insomma la paracanestra è questa. Sicuramente abbiamo sofferto molto a rimbalzo perché siamo più piccoli, lo si sapeva, però diciamo che il rammarico non è per questa partita qua ma è per come si è affrontata quella di sabato scorso. Infatti purtroppo arrivavo su quel punto adesso perché avessimo, non si può sapere, ma avessimo giocato con l'intensità che abbiamo messo in campo stasera, non me ne voglio a Mazzoli ma probabilmente la settimana scorsa il risultato sarebbe stato diametramente opposto, non so se la pensi come me. No, non so se andava di ammettamento opposto il risultato, però sicuramente se tu giochi concentrato e in cinque in campo fanno tutti la stessa cosa, hai molte possibilità di fare bella figura e di portare a casa le partite, poi ci sta a perdere di pochi punti come squadra e come Reco, non ci sta a non affrontare le partite concentrati, quello è dall'inizio dell'anno che te lo dico, non possiamo mai permetterci in nessuna situazione. Allora diciamo che visto che io guardo il lato positivo, il micchiere mezzo pieno riguarda comunque la voglia di giocare stasera che si è vista in campo e la squadra che ha voluto lottare e sicuramente è un buon viatico visto che adesso andiamo a affrontare una serie di partite che sulla carta sono quelle fondamentali per noi, per andare a affrontare tutte le formazioni più o meno del nostro rango se non sbaglio. Sì, adesso abbiamo altre tre partite che diventano praticamente degli sconti salvezza, San Vendemiano a San Vendemiano, Reggio Emilia in casa e poi andiamo a Cagliari. Sono dei veri sconti salvezza, se l'atteggiamento con il quale affrontiamo le partite è questo, ce le giochiamo, andiamo e ci giochiamo le partite con chiunque, come abbiamo fatto anche in altre situazioni con squadre ben più brazonate, Reco comunque non ricordiamoci che è squadra di medio alta classifica, dipende da noi, dipende da come andiamo, poi se giochiamo così e gli altri sono più bravi gli stringiamo la mano e gli diciamo bravi, l'importante è giocarsi le partite fino in fondo.